E invece fa la storia della città e la continua a fare non solo una volta ma più volte Mario Donadio, buongiorno Mario Ciao a tutti, buongiorno a tutti Allora Mario Donadio, per quei pochi che non ti conoscessero, come posso presentarti? Colui che mette il becco in tutto le cose belle di questa città Sì, sì, diciamo che sono un attivista volontario su tanti fronti Attivista volontario mi piace molto, sì, perché no, tu sei praticamente un volontario Ah ma di che associazione? Ecco qui si apre un capitolo Perché non è che tu dici, sai, io sono l'associazione Vidas, sono l'associazione Spazio Umano Farò un volontario della Croce Rossa, no, tu in realtà dove c'è volontà ti volontari Sì, 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 diciamo ho l'animo e la curiosità di conoscere le associazioni E di entrare in relazione con loro, ecco, più che averne una mia, ne ho una Però diciamo che la mia passione è quella di conoscere tutte quelle che sono le realtà associative sul territorio E ne conosci così tante che, ad esempio, nel municipio 5 giusto mi sembra, no? Sì, esattamente Nel municipio 5 c'è un gruppo Whatsapp che si chiama Los Amigos Sì Che quanta gente c'è dentro più o meno? Eh sì, adesso siamo quasi 150 150 E sono tutte appunto persone attiviste del territorio che si scambiano pareri, pensieri E poi anche interagiscono nel farsi conoscere i propri appuntamenti che fanno Io ho l'onore di far parte anch'io di questa chat Quando Mario l'aperta, io poi sempre sei miscredente che non sono altro Mario, bella idea, quarto d'ora, 20 minuti non di più, poi si scanneranno tutti tra di loro, non durerà niente E invece no Ma sì, infatti la cosa bella di questi gruppi è che nel momento in cui riesci a far passare un certo tipo di messaggio C'è dell'anarchia costruttiva, nel senso che le persone riescono a relazionarsi E forse anche ad avere un comportamento bello, bello e non polemico Ecco, al di là che ogni tanto qualche discorso un po' più acceso nasce Però devo dire che più siamo e più questa cosa si riesce a entrare in un regime di calma Ecco, questo amore per il far sociale e le altre associazioni ti ha portato anche un giorno a dire Ma io ho un pezzettino di sparti traffico davanti al tuo posto di lavoro in realtà, neanche davanti a casa tua Quindi volendo uno potrebbe dire, ma che me frega a me, no invece io ci passo tanto tempo lì, mi piacerebbe vederlo meglio di quello che era Diciamo, ecco così E tu hai preso, hai adottato una piccola iguola, giusto? Sì, sì, sì Allora, ti chiedo solo questo, tu l'hai adottato, hai fatto un contratto, un patto di... L'hai messo delle fioriere, giusto? Sì Cosa è successo quando si tornarono le vacanze? Le fioriere non c'erano più, sono sparito Va bene, questo è quello di cui parleremo subito dopo la canzone che va Ma vi do uno spoiler, non le hanno rubate No Sono state tolte dal comune, vedremo bene chi Però sono state tolte, diciamo, dall'istituzione, quella stessa che però gli aveva detto puoi fare quel lavoro lì Insomma, per farvi capire come l'istituzione poi è complicata anche al suo interno Adesso andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui perché Mario ce la racconta bene E anche qui si capisce la grande intelligenza di Mario che non fa polemica sterile Ma vuole da qua far capire come si potrebbe migliorare le cose, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione Ehi Credence, Credence Clearwater Revival con I Put A Span On You E allora Mario Donadio qui con noi, il volontario attivista Mario Donadio Che appunto, in che anno hai pensato di prenderti cura di quella Aiwola? Quella in particolare cinque anni fa Ok, cinque anni fa, tu davanti A me piace comunque questa cosa, io la sottolineo perché molti non l'hanno sottolineata Che era davanti al tuo lavoro Sì Perché uno pensa, vabbè, davanti a casa Mi metto a posto, va bene, la prendo a cuore, il quartiere Ma lì in realtà non è tu, tu abiti lontano da lì tra l'altro Cioè non lontano, non abiti lì comunque Però giustamente ci passi otto ore della tua vita tutti i giorni, no? Sì, sì E quindi hai detto, ma io mi prendo cura di quella Aiwola Te ne sei presa cura Hai messo delle fioriere Il finale diciamo è stato di mettere delle fioriere Perché però appunto, quando sei tornato a casa dalle vacanze Non c'erano più Non se le erano rubate qua del piano sopra per metterle sul terrazzo Ma? Purtroppo dopo una serie di, tra virgolette, indagini personali Ah sì, tra prendersi Perché come quando ti portano via l'auto che la metti sotto di vietata, no? Che tu sai, me l'hanno rubata, me l'hanno rubata Non lo sai, devi indagare come è successo Sì, sì, ho indagato Qui non c'era nessuna sotto di vietata delle fioriere, ma? No, ho indagato e grazie alla soffiata di un inquilino del piano di sopra Ho scoperto che erano state portate via da l'AMSA Ah, colpevoli! No! Perché anche l'AMSA non è colpevole in realtà a questa storia No, no L'AMSA ha fatto il suo lavoro No, no, esatto L'AMSA ha fatto il suo lavoro E' tutto nato da un qualcuno che evidentemente non gradeva il fatto che queste aiole impedissero il parcheggio Un parcheggio abusivo perché poi era uno spartitraffico dove ci sono delle piante Quindi è proibito parcheggiare E quindi ha fatto questa denuncia E' uscita la polizia locale E ha ritenuto, pensato che quelle fioriere fossero abusive In realtà io avevo un permesso appunto regolare Infatti E' andata così Tant'è che poi tu comunque hai chiesto anche spiegazioni al Comune E anche il Comune è rimasto abbastanza abbranzito da questa cosa Sì, sì, infatti la sorpresa è stata appunto Al di là di non avere una risposta immediata E il fatto che lo stesso Comune Non mi ha saputo dire all'inizio che cosa fosse successo Grazie a questa indagine e a questa soffiata sono riuscito a capire Dopodiché è arrivata la scusa da parte della parca dei giardini Però non era la responsabilità Una scusa per causa Esattamente, sì, sì, è un po' questo E' un po' quello che spesso e volentieri in una grande città Sono i problemi che si incontrano Quelli della difficoltà di comunicazione fra compartimenti stagni E quindi la mancanza di dialogo, di coordinazione Che poi porta appunto a queste vicende che sono un po' complesse Diciamo, non tristi, ma complesse Per chi si è fatto anche un bel lavoro per tanti anni Eh sì, infatti, immagino che il mazzo, come si dice in questi casi Sì, esatto Di fioloni, no, ma mazzo di fiori per mettere nella fioriera Insomma è stato abbastanza grosso in questi anni La cosa però interessante è che questo avviene nella città Di cui spesso e volentieri si fa partecipazione La parola è un po' troppo Partecipazione, sinergie, cittadinanza attiva Queste sono le parole che vedo che ti fanno venire la pelle d'occa Nonostante tu faccia tutte queste tre cose Sì, allora, partiamo da un discorso Io tempo fa ho ascoltato una bellissima trasmissione In cui si diceva che le città hanno un po' sempre la tendenza a proibire A proibire, no? Qualcuno il crescere proibiscono E proibiscono appunto la libertà del cittadino di fare delle cose, no? Una volta c'era chi aveva lo spazio privato su cui faceva delle cose Ma lo spazio pubblico era abbastanza lasciato all'utilizzo della cittadinanza Oggi sempre di più viene impedito di fare delle cose appunto negli spazi pubblici E su questo tema esistono a Milano, devo dire la verità, delle ottime soluzioni Perché ci sono, tipo questo contratto, della dotta il verde pubblico a cui ho partecipato È appunto un contratto che ti permette di adottare un'aiuola Di presentare un progetto e di farla tua Ma tua nel senso di gestirla Di gestirla, sì sì Di gestirla, però la bella cosa è che la gestisci su un'area pubblica Quindi a disposizione di tutti La lascia a disposizione del grandimento della città E lo stesso discorso avviene anche con certe formule Come i patti di collaborazione O come quelli che erano una volta i giardini condivisi Cioè queste aree in cui ai cittadini viene lasciata la possibilità di fare, no? E anche di prendersi della passione Che è un aspetto che se tu vai a far scemare Purtroppo rischi di diseducare i cittadini A coltivarsi una fioriera A fare delle cose che poi è un peccato Perché viene lasciato poi tutto in gestione dell'opera Dell'amministrazione pubblica E rimane solo alla polemica nel momento in cui l'amministrazione pubblica Non fa il suo corso Ecco, la polemica che appunto anche in questo caso sarebbe stata facile fare La polemica facile fare Facile sarebbe a sicurare tutti Facile anche dire, sapete che c'è, basta, non faccio più niente E invece no Questa cosa non fa proprio parte del tuo DNA No, no, assolutamente Tant'è vero che diciamo che io per la verità Ho adottato tre nel corso della mia esistenza No, 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 due, ma sì tre Tre aree su cui appunto far questo tipo di contratto Di adottare la Repubblica La prima è stata dieci anni fa Allo spazio di via di Missaglia Dove curiamo un giardino sociale bellissimo Poi in via Montegani E poi questa è stata la terza E sono tutte state bellissime esperienze Anche perché in contesti diversi E anche, fra l'altro, impari anche a capire che ogni luogo ha una sua caratteristica Una sua identità Perché il, per esempio, il mai mi sarei aspettato Si parla spesso e volentieri di degrado Il degrado lo si fa, se ne parla sempre sul tema periferie Un po' del centramento, eccetera In realtà vi posso assicurare che purtroppo il degrado esiste anche L'educazione, chiamiamola non più che degrado Esiste anche nel centro città Perché io in queste fiore spesso e volentieri ci trovavo di tutto Abbandonato bottiglie, abbandonato cartacee Per cui Si immagina il pacchetto di sigarette che non so dove buttare La poggio lì Esatto, esatto Una bottiglia di birra che non so dove buttare La butto lì Esattamente Giorno che non trovavi bambini o cognate buttate lì Non so quando le metto Esatto, esatto Quindi il fatto non era Mi dovevo prendere cura non solo di curare i fiori Ma anche di curare questi aspetti qua Che forse erano preponderanti Adesso non ci sono più le fioriere Cosa c'è di bello adesso su quel aspetto traffico? Adesso purtroppo sono tornate le auto Oh, qui c'è il salone dell'auto Sì, sì Hanno fatto un salone dell'auto così gratis Non sei contento Mario? No, purtroppo è così Diciamo che ho avuto assicurazioni Dopo le scuse Che lì verranno posti dei dissuasori I famosi tronchi che sono compassi in altre parti della città Quindi comunque ancora belli nel senso Esatto, sì Quattro pezzi di ferro No, no, no Questi tronchi e poi magari da lì chissà che possa rinascere qualcosa Mario, dimmi se sbaglio Mi penso siano i famosi tronchi degli alberi caduti nel luglio del 23 Riciclati in questo caso, riutilizzati a dissuasori, panchini in alcune zone Bene, bene Bene, allora Mario rimani qui con noi però Perché poi voglio sapere tutte le altre So che stai costruendo un magazzino Questo mi ti va di raccontarlo dopo Andiamo con un po' di musica, pubblicità E poi ancora qui con Mario perché sta costruendo cose Non so, adesso può stare C'ha un furgoncino piccolissimo ma fa duemila viaggi avanti e indietro Per portare cose avanti e indietro Quindi insomma, rimanete con noi Mario Donadio è tutto quello che combina In questa città Ivano Fossati, la mia banda suona il rock La mia banda invece suona tutto quello che volete Tutti i giorni dalle 7 alle 9 Qui su Cristian Radio con Good Morning Milano 3317853555 il nostro numero di Whatsapp Grazie per i messaggi che ci stanno arrivando Grazie per i Whatsapp che ci scrivete ogni mattina E insomma, se avete anche qualche curiosità da chiedere a Mario Donadio Potete farlo Mario Donadio, il volontario attivista Che appunto, nonostante le brutte sorprese al ritorno dalle vacanze Quindi queste fioriere di questa uola da te adottata Tolte da AMSA su indicazione dei vigili Su indicazione di qualcuno che forse pensava fossero abusive Stai di fatto che non hai perso però la voglia di fare Non hai perso la voglia di mettere Di collegare le realtà sociali di questa città Cosa stai combinando di bello adesso? Adesso sempre sul tema costruzione Perché poi la mia passione è anche C'è quando si dice che sono un costruttore di relazioni Oltre a fare ragazzi, lo costruisce con le mani il seghetto, i chiodi, l'abitatore e via Sì, adesso sto costruendo Allora, è nata nell'ultimo baio di anni una passione Che è quella del riciclo Riciclo inteso come recupero di cose Che prima erano delle apparecature computer, elettroniche, eccetera Vi do una piccola cosa La rediazione di Good Money Milano ringrazia Mario Donadio Ad esempio Avevamo lanciato questa iniziativa Anche con dei volontari, eccetera Di ricondizionare gratuitamente questi computer Che donavamo E poi da lì Vuoi perché? Un po' la mia attività lavorativa Non mi portava a distrarmi Da quello che era Per sempre il volontario Nel stesso ambito Allora ho cominciato a raccogliere giochi Giochi e libri per bimbi Che è tanta questa passione Poi da lì è nata anche tutta una rete di riciclo In cui, per l'altro, ci sei anche tu Che è bellissima Chietra prende Questa parola riciclo Che di solito siamo abituati a collegare Diciamo alla pattumiera Che noi buttiamo via E qualcuno poi ricicla In questo caso è riciclo Che viene messo in ciclo Cioè riciclo Continua a rigirare Ma non solo una volta Io vi porto un esempio C'è stato un esempio Mi porto un esempio Qualche Ormai un annetto Se non più fa Facciamo un ritiro di stampanti Ok? Esatto Quella stampante Uno di queste stampanti Finisce nella nostra redazione Viene usata Nel senso che viene usata Per un periodo Dopodiché Non ci serve più Ritorna sul sito Cioè ritorna su quel gruppo E adesso è finita A un'altra associazione Che dopo la nostra associazione Aveva bisogno di questo tipo di stampante Quindi insomma Ci sono cose che Tornano e ritornano Vengono usate Poi ritornano lì dentro Insomma A volte Tipo un proiettore Servito per Un piccolo periodo Poi dopo è stato rimesso Nel gruppo Perché qualcun altro Potrebbe usare Anche perché Dico questa cosa A qui del gruppo Ci sta ascoltando Tranquilli Se vi perdete qualcosa Una volta Tanto ritorna Cioè è micidiale Come veramente Sono delle cose Che ritornano sempre Ci sono sempre Sempre Quindi c'è sempre Per le associazioni Che hanno bisogno C'è sempre il modo Di trovare la soluzione Assolutamente sì Poi le buone pratiche Fanno bene all'ambiente E soprattutto È molto bello Quando tu trovi Un prodotto Che pensi Che non possa servire più Che venga invece Apprezzato da qualcuno È quello Che prova gioia Riceverlo Ecco questo Senza neanche Senza di colpa Non dice Però vedi C'è quella roba lì È nuova Non ti preoccupare Tu l'hai usata Basta L'hai ammortizzata Non l'hai neanche usata Fa niente Tanto ormai l'hai comprata Ma c'è qualcuno Che nella tua Inutilità Di quell'oggetto Per te Troverà invece Un'utilità E qualcosa Che possa servirgli Insomma Questo vi fa capire Un po' come Mario Si mette Sta costruendo Che cosa Me lo dici subito dopo Lì chi lì Perché adesso Andiamo con un po' di musica E poi tengo Sospanso il nostro pubblico Perché sta costruendo Davvero qualcosa di pazzesco E soprattutto A mano lui Cioè nel senso Prende Saghetto Giodi È sempre così Mario è questo Mario è un costruttore Sai come si dice Costruttore di ponti Si dice Ecco Mario ve lo fa Cioè nel senso Viene a casa vostra Vi fa un Golden Gate In mezzo al salotto Attenzione Lickily I follow rivers Qui su Cristiano Radio Good Morning Milano Con Mario Donadio Appunto l'attivista volontario Stavo raccontando Come davvero Tu prendi la lettera Tutto no Costruisco ponti Costruisci ponti Costruisco relazioni Costruisci cose In questo momento dai Esattamente Adesso in questo momento Mi sto dedicando Alla costruzione Di questo magazzino Per giochi Perché Purtroppo prima Stivavo giochi ovunque Un po' a casa Un po' nei boscoli Che ritiravo Da donare Vuoi l'età Che comincia A avanzare Vuoi un po' Il fatto che Anche avevo mia moglie Che si lamentava Giustamente Che ogni tanto Gli portavo i sacchi Li lasciavo in sala Insomma Tutte queste cose Ho trovato la fortuna Di un privato Che mi ha messo A disposizione Un'area Nel garage Proprio Della auto E lì Sto costruendo Questo magazzino Di giochi Anche qui Sul tema Riciclo Riciclando Dei pallets Non sei andato A fare La joint venture Con il grande Fornitore Di mobili Finlandesi Dico per non dire Quell'altra nazione Invece hai Grazie a questa Donazione Di questi pallets Da parte di questo amico Che ha un'azienda Ne ho contati 120 Fino adesso 120 Quanti ce ne stanno Dentro il tuo furgone Ce ne stanno Sette Sette Adesso io non sono bravo In matematica A fatti i conti Sono sicuramente 20 viaggi Più o meno Sono 20 viaggi 20 viaggi Poi insomma Sto costruendo Queste scaffalature Belle e robuste Più anche Delle librerie Che ho portato Delle librerie donate Che quelle serviranno Per stivare i libri E piano piano Sto appunto Apprezzando Questo Magazzino Che diventerà Un po' La logistica Magazzino logistica Delle associazioni Cioè un luogo Dove le associazioni Potranno Potranno Attingere Giochi Oltre al fatto Che da lì Partono Quei giochi Che io Distribuisco Nelle varie Postazioni Che con altre Associazioni Stiamo gestendo Sul territorio Milanese Nelle case popolari Dove lasciamo giochi Perché anche lì Attenzione È vero I nostri figli Sono stra pieni di giochi Però ormai li abbiamo presi Non sentiamoci in colpa Dire ecco Hanno tutto C'è chi non ha niente Bene Hanno tutto Si stufano di quel giocattolo Non buttatelo Chiamate Mario Tanto la maggior parte delle volte Non è neanche rotto Si stufano prima di romperlo Quindi Buttate a Mario Che lo rimette in circolo No appunto La cosa interessante Appunto Che tu puoi continuare a dire Sarà il magazzino Delle associazioni Però c'è non è il magazzino Marios Donadios Magazzino No Deve essere Un qualche cosa A disposizione Di tutti Proprio Nell'ottica Di quel discorso Che ci si è fatto Prima di fare rete E quindi Di far sì Che tutti Possano dare Un contributo Nell'aumentare Il tema Del riciclo E del riuso Anche perché So che per molte associazioni Dove mettere le cose È un grosso problema E spesso i menteri Si perdono Anche possibilità Di ritirare Dei beni stupendi Perché non si sa dove metterli Si esatto O non si sa come trasportarli Si Questo è un altro tema Quella è un'altra nota dolente Perché Quello del trasporto È un peccato Perché poi per esempio Sul tema degli arredi Ci sono tante famiglie Che avrebbero bisogno Di tante cose E ci sono tanti donatori E se si avessere L'opportunità Di avere dei mezzi Da parte Anche che so Delle amministrazioni Un qualche Un qualche soluzione Da mettere in espressione Delle associazioni Ecco io mi immagino Un noleggio gratuito Per le associazioni Di mezzi Per fare questo tipo Di attività Serve veramente Una grandissima cosa E ancora qui Abbiamo visto Come ragiona Mario Donadino Non è che ha detto Ecco il comune Non fa niente Troviamo una soluzione Insieme Cioè questo è il bello Non è sempre solo lamentarsi Anzi nel tuo caso Non è mai lamentarsi Ma non è appunto Portare il problema E fermarsi lì Ma è cercare di dire Una soluzione La si può trovare Certo Ma infatti La collaborazione Tra cittadinanza E istituzioni È sempre necessaria E fondamentale Perché È il cittadino Che porta Alle amministrazioni Che magari sono prese Su altre tematiche E non hanno tempo Deve portare Quello che è Un po' L'esigenza Del territorio E su questo Punto tema Le relazioni Propositive Sono fondamentali Insomma Speriamo allora Di poterle fare So che tu hai Un ottimo rapporto Anche con i municipi Quindi che sono Fatti fondamentalmente I nostri primi interlocutori E che speriamo appunto Abbiano sempre invece Più possibilità Di poter fare E noi li sponsorizziamo Sempre Assolutamente Sì Infatti Questo è un'altra È un'altra È un altro sogno Diciamo Quello che I municipi Abbiano sempre più Autonomia Nel Nel lato pratico Di gestire le cose Perché Sul tema Questi Contratti Noi andiamo Dal comune A Sottoscrivere I contratti Di gestione Della Iola Sarebbe bello Anche che Domani Si potesse Andare dagli stessi Municipi E fare questo Tipo di attività Ce lo auguriamo Municipi che sono Già stati tirati in mezzo Ad esempio Sui pizza La possibilità Di gestire I piccoli eventi Diffusi Insomma Si sta facendo qualcosa Speriamo Sempre sempre di più Perché insomma È fondamentale Ricordiamo poi Che i nostri municipi Sono dei piccoli comuni Anzi Neanche piccoli Insomma 150-140 mila Abitanti Il Culture Club Con Karma Chameleon 8.52 Siamo quasi arrivati alla fine Anzi Mario Come possiamo fare Per seguire un po' Le tue avventure E vicissitudini Allora C'è un sito Che si chiama Qui Milano Ricicliamo Punto it Qui Milano Ricicliamo Sì Punto it Dove sono elencate Un po' Tutte le attività I riferimenti Più la La pagina Qui Milano Su Facebook Perché cerchiamo sempre Di raccontare Quello che facciamo Che è importante Anche perché Chi ti dona Ovviamente Giustamente Deve anche sapere Che quello Che regala Va a buon fine Altro tema Di cui non stiamo Ad aprire Cose varie Tra parentesi No Fassami fare La battuta polemica Sul sito Sono girati anche Panettoni e Pandori Che sono finiti Però dove dovevano finire Basta scusate L'ho detto così Senza Ogni riferimento Puramente casuale Comunque Mario Grazie mille Ah se volete Seguite anche Comunque Mario D'Oradio C'è sui social Sì sì assolutamente Quanti amici c'hai su Facebook Sei già dato ai 5.000 Sì 5.000 Sì come quelli fighi Capito C'è la spunta blu C'è la spunta blu Ma lì Diciamo Più narrarmi Ma che ne metto Sì sì Ho letto una cosa Stamattina Che è scritta Molto bella Dopo la vado a rileggere bene L'ho letta Quando ero assonnato Mentre venivo In redazione Però Parlavi di giovani Cose che hai visto Fatti sul lavoro Comunque Grazie mille Mario Donadio Grazie a voi De l'ospitalità Come sempre È bellissima La redazione Ti piace l'atmosfera Quando vuoi Puoi venire qua Io dico sempre Bellissimo gruppo Siete un bellissimo gruppo Bene Ringraziano Della regia Fanno cenni di ringraziamento Grazie E allora Grazie mille a Mario Donadio Andiamo con la nostra sigla Grazie mille a Mario Donadio 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 Grazie mille a Mario Donadio